Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi Rimanete nel mio amore Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena Questo è il mio comandamento Che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati Nessuno ha un amore più grande di questo Dare la vita per i propri amici Voi siete miei amici se farete ciò che io vi comando Non vi chiamo più servi perché il servo non sa quello che fa il suo padrone Ma vi ho chiamati amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi E vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto E il vostro frutto rimanga Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda Questo vi comando Amatevi gli uni gli altri In questo Vangelo, cari fratelli e sorelle che abbiamo poc'anzi proclamato Abbiamo ascoltato delle parole suggestive come amore, amicizia, gioia Delle parole che da un lato provocano in noi quasi dei beni perduti Dei beni che sono sempre cercati ma sempre sfuggenti Perché più che l'amore noi forse abbiamo più l'impressione che vinca la solitudine Più che la gioia, la risperazione se pensiamo anche a questo periodo che viviamo Eppure questi beni se da un lato sono sempre inseguiti, sempre sfuggenti Dall'altro ci rendiamo conto che sono sempre desiderati, sempre agognati, sempre suscitano in noi attesa e speranza Si parla di amore, dov'è l'amore? Si parla di gioia, come conquistarla questa gioia? E allora ecco è importante che torniamo al Vangelo Perché il Signore Gesù ci dice dove possiamo trovare questo Qual è il cammino per arrivare al segreto della gioia, dell'amore, della amicizia Innanzitutto il cammino che prende le mosse dalla vera identità di Dio Chi è Dio? A quale Dio noi crediamo? A un Dio terribile, maniaco delle leggi? A un Dio estraneo, indifferente ai nostri problemi? Forse ancora peggio ad un Dio che è responsabile del male che c'è nel mondo Ecco, Gesù oggi ci dice nel Vangelo che queste immagini di Dio sono immagini da cancellare Perché Dio è amore E per amarci non aspetta che noi lo amiamo Che noi facciamo il primo passo Ma è sempre Lui che fa il primo passo E il nostro amore è sempre una risposta al suo amore Perché Dio è la sorgente di ogni amore L'amore che dal padre va al figlio Da Gesù a noi, da noi ai fratelli Perché, ci dice Giovanni nel Vangelo Noi dimoriamo, noi abbiamo il nostro domicilio nell'amore Ma Gesù ci rivela ancora una cosa ulteriore Circa l'amore di Dio Che questo amore si chiama amicizia Quando noi parliamo di amicizia Probabilmente pensiamo ad un sentimento inferiore all'amore Ecco, invece per il Signore Gesù L'amicizia appartiene all'ordine dello Spirito Appartiene all'ordine della scelta L'amicizia che per il Signore Gesù, per essere vera E per essere secondo Dio Ha due risultati, potremmo dire Due risultati Il sacrificio e la gioia Innanzitutto il sacrificio Nessuno ha un amore più grande di questo Dare la vita per i propri amici E poi la gioia Questo vi ho detto Perché la mia gioia sia in voi E la vostra gioia sia piena Chi ama di avere amore Di avere amore e di amicizia È pronto a dare tutto È pronto a dare la vita per la persona che ama E nel donare la vita per la persona che ama Trova la gioia E sicuramente in questo il Signore Gesù Ci è di esempio E ci è di illuminazione Allora, cari fratelli e sorelle Noi vogliamo chiedere in questa Santa Domenica Proprio al Signore questa grazia Che Lui rimanga in noi Ci parli del Padre Ci mostri il Padre Che ci ama Di amicizia Di amicizia vera E questo amore Noi lo possiamo poi vivere Nei confronti dei nostri fratelli Matho Di an PAO Di amicizia A I amicizia I amicizia Grazie.